forse adesso funziona forse si funziona oh meno male porca miseria non ce la faccio più un cordiale saluto a tutti voi dal vostro amichevole tizio qualunque di quartiere che sta imparando proprio giorno per giorno a capire come funziona OBS in teoria dovreste ricevere sì bene bene mi vedo sono sempre più raggiante mamma mia che cosa brutta si sente anche ditemi se si sente anche intanto aspetto che arriviate tutti quanti buoni buonini perfetto intanto inizio a salutare perchè segnalive di fine anno questo non doveva essere perfetto sta trasmettendo nella parte sbagliata che cosa simpatica porca miseria fermi cosa è successo oh porca miseria come la cambio qua saluto 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 a domenico panariello una persona a casa aspettate devo dare l'indirizzo giusto porca miseria che palle ok ricordiamoci di togliere questa co allora così voilà dicevamo non ho capito perché non ho capito perché fa così scusate allora no è giusto è giusto è giusto non capisco come mai però è giusto porca vasca allora vediamo un attimo ce la faccio guarda che è cambiato tutto da quando le ho fatte io le lives su youtube porca miseria vabbè dovrebbe funzionare quindi saluto velocemente ho intravisto i termosifoni che li saluto noob but good spencer matteo marchetti crazy pen 109 carlo russo daniele arpaia e tutti quelli che che appunto che ci sono questi sono quelli che vedo in questo momento allora non non so come mai ha fatto dei problemini prima cioè nel senso mi segnava che fosse su un altro streaming in realtà era sullo streaming giusto capito un ca comunque va faccio la prova del 9 per vedere aspetta facciamo così ok hai bisogno di un sito web perché non lo crei da solo e quindi questo cosa ne fa di staffare vabbè stai zitto no l'on the green soltanto adesso vedrete l'on the green aspetta troppe finestre aperte porca vasca allora la vita è come un biscotto ma se piove si scioglie non vorrei buttare zizzania ma a me segna ancora live di fine anno provi a fare aggiorna provi ad aggiornare vediamo un po' perché aggiornare può essere la chiave poi non so perché mi segni un altro vabbè non ho ancora visto il pilot di 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 però insomma adesso cercherò di di recuperarlo scusate sono un attimo ancora un attimo incasinato perché ho dato l'url sbagliato quanto sono simpatico mamma mia portacci mia allora facciamo che modifico l'url lo metto anche su trader perché avevo sbagliato a metterlo su trader su la c'è in c'è l'url in year dirvi di Logan, si è visto un trailer, che cosa vi posso dire comunque adesso dovrei avere tutta l'attenzione su di voi tutta su di voi, aspetta un attimo consiglio, impostate la live a 144p, eh sì purtroppo figliuoli miei la connessione è questa non posso farci granché vediamo un po' qua ok pa 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 ti saluto spiderman, ti saluto ti saluto, oh buonasera signor Wasabi, eh comunque mi dai proprio il modo di di arrivare in argomento, perché si vede male? Io l'ho fatto che si doveva vedere bene no, non va bene questo non so come mai adesso cerco di ma almeno si sente bene cioè vedere abbiamo capito che non ci devo fare troppe speranze ma si sente almeno bene no, ma adesso la devo accorciare la barba sì, vi saluto saluto Mr. E saluto Mr. Movie Boy saluto Antonio Restucci ah ok, boh l'importante è che si sente ho capito che la qualità streaming purtroppo non sarà granché però insomma è che più di tanto si può fare allora non parleremo di argomenti specifici quindi vedo che mi chiede parla di Logan parla di questa storia parla con questa no, non è questo il tema della live la live come potete vedere come tema è sette anni qualunque perché questo canale il 14 febbraio del 2010 ha visto la luce probabilmente questo vi fa capire quanto fosse allegra la mia vita sentimentale all'epoca e nel frattempo tante cose sono cambiate io per prima io per primo però insomma siamo qua siamo qua dopo sette anni sette anni abbastanza travagliati faccio così faccio così eh sette anni non ininterrotti cioè sono più le volte che ho detto che non facevo più video delle volte in cui ho fatto effettivamente video salutone a Ocelot Wolf sì abbiamo iniziato da pochissimo però insomma voglio dire ci siamo siamo qua siamo ancora vivi e niente questa diciamo che è una live che si vuole fare un pochettino il riassunto di quello che è stato ma soprattutto vuole parlarvi di quelli che saranno gli avvenimenti a venire perché da oggi e nello specifico cioè con più precisione da venerdì in realtà cioè nel senso oggi è il punto di partenza ma da venerdì ricomincia la programmazione regolare del canale e quindi torneranno a esserci video il cappellino non lo indosso più perché mi sento un po' stupido tenerlo in casa onestamente e e niente mi piace più avere la capoccia tanto non è che dobbiamo nascondere qualcosa si sa bello che ci sono ogni tanto ci sono i trolli perché mi vogliono fare ah sei un pelato wow la tua il tuo spirito di osservazione mi colpisce mi 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 lascia proprio a bocca aperta ma puoi venirti a sfammare dragon adesso adesso vado no non vado a rompergli le palle però glielo cancello dai non mi sembra corretto scusa eh non mi sembra dragon tv dottor marco se posso dire una cosa sono uno di quegli utenti che segue senza senza quasi mai commentare ma ti volevo fare i complimenti ti dividi a metà il merito con le ortolani per avermi avvicinato al fumetto ti ringrazio non non è un mi sento molto piccolo in confronto alle ortolani però grazie allora come vi dicevo appunto lo ripeto anche così c'è a chi è arrivato adesso non parliamo dei specifici argomenti cosa ne pensi di questo cosa hai visto legend hai visto logan perché adesso come adesso non è il tema dell'argomento anche l'agente 47 è pelato vadano a dirglielo esatto che lui dice è vero quindi non capì eh ma allora sei senza capelli esatto e tu cerchi di capire qual è la parte in cui dovresti dovresti offenderti però vabbè andiamo avanti andiamo avanti quindi cosa ci sarà da venerdì in poi a questo proposito se riesco a far funzionare decentemente quel bel programma che è OBS così così ecco aspetta no ho sbagliato vi faccio vedere una piccola cosina ok tanto vi faccio sentire il suono per le donazioni che c'è per youtube che devo ancora cambiarlo and the green questo naturalmente poi ci sarà the green mi piace tirarlo fuori un abbraccio anche alla Deb la Deb sentitamente ringrazia grazie grazie ciao è qua con noi vive lotta attorno a noi ancora con noi vabbè eh poi cos'è che stavo facendo ah sì giusto tenete conto che per adesso non c'è ancora l'audio a questa cosa che sto per farvi vedere ma gli spoiler eh gli spoiler gli spoiler ebbene sì aspetta ehi fermo lì allora vediamo un po' vediamo un po' si fa così poi si fa cosà ecco qua cosa succede perché si vede così arbitro ecco qua intanto vedete le meraviglie dietro la la cioè chiaro no senti come si fa qua ecco facciamo prima così voilà bimidi bobidi boo la musica la faccio io non so perché si è bloccato non doveva bloccarsi ma se non è se è una cosa che funziona bene non è una live mia cioè voglio dire mi pare rifacciamo ecco bo dovrebbe funzionare bene porca troia spiderman la storia testi e montaggio di francesco gastaldo riprese aiuto prezioso di debora rovinalti puntata numero 5 l'era del bronzo quindi venerdì on the green non so perché è partito eeeh quindi venerdì arriva il quinto capitolo di spiderman la storia l'epoca del bronzo l'era del bronzo adesso devo capire un attimo se mi piace il titolo o meno e andrà a coprire un bel lasso di tempo cioè stiamo parlando praticamente di quasi tutti gli anni settanta cioè tenete conto che la morte di Gwen Stacy è del 72 quindi escludendo quei due anni si fa tutto il periodo degli degli anni degli anni settanta e si finisce con un avvenimento specifico quindi avrete e siamo a metà del viaggio eh cioè tenete conto che il quinto capitolo è il è è metà di è il metà viaggio perché poi ce ne saranno altri cinque se arrivo fino a quell'età e se voi non morite prima o se io non muoio prima non so cioè non vi sto dicendo che che dovete morire però magari cioè nel senso no comunque e questo è quanto questa è la prima notizia erezioni everywhere che poi la storia di spiderman già la sappiamo ma raccontata da te è tutta un'altra cosa e vabbè magari alcune cose non le sapete tipo voi lo sapete no vabbè non vi faccio spoiler dai è la sessione va di merda tieni duro tieni duro tieni duro caro chiaro caro cianci esatto fai da me la storia arriverà a cadenza quindicennale poi altra notizia il canale ma più che altro per un discorso di tonsille chiude arrivederci è stato bello tante gare e cose quel canale è bene ah ora VLC si può togliere ah si scusate giustamente porca vasca eccomi qua chiedo scusa per tre ore ho tenuto non mi ricordavo più dicevo il canale di gaming chiude ma il gaming non chiude tra virgolette nel senso che il focus del canale sarà sempre comunque il fumetto ma non solo perché perché appunto le esperienze di gaming che ci saranno saranno nel canale principale ci sarà una playlist ci sarà un giorno specifico in cui usciranno i giochi ma non saranno comunque nello stesso canale volevamo quindi Maltizzo qualunque proprio nabbo ci saluta e ci sarà invece tutto nel canale principale poi altra cosa parecchi dei contenuti anzi da quasi totalità dei contenuti del sito avrà un taglio pensato in funzione di un altro progetto che è quello splash page qualcuno lo sa già qualcun altro non lo sa l'idea è di rendere questo canale tra virgolette un pochettino più come posso dire legato a quello che è il nuovo progetto che è appunto splash page per chi non lo sapesse splash page è un sito che abbiamo aperto a fine settembre diciamo l'idea è stata mia poi comunque ho portato dietro con me un sacco di persone veramente capaci conoscete sicuramente Victor conoscete Martina poi c'è Mrs. Leopard Freak gli Eremiti Uniti insomma un bel po' di gente veramente capace questa sarà un'altra cosa quindi tutti diciamo i contenuti cioè non cambierà quello che io normalmente faccio cerchiamo però di renderli un pochettino più presentabili con tante virgolette anche per per chi magari non conosce il mio canale non è abituato alla mia sequenza di parole a random e quindi magari vuole un qualcosa un po' più di sintetico quindi cercherò per quanto possibile di tagliare senza perdere un po' di cioè senza perdere la spontaneità che è quello che credo che parecchi di voi hanno premiato al sottoscritto i gameplay saranno improntati sul proviamo un gioco e passiamo avanti oppure punterai a fare una serie su un gioco solo gameplay o ci aggiungerai qualcosa allora non lo so ancora nel senso che se ci sono delle serie molto probabilmente saranno di giochi tipo avventure grafiche quindi fare monkey island il 2 il 3 e difficilmente giochi diciamo di azione ne farò una serie però potrebbe essere che tornerà come posso dirvi un'atmosfera di qualche anno fa e magari con qualcuno di qualche anno fa magari quando me l'ha promesso ha detto cioè adesso manco se lo ricorda più perché non è passato un po' di tempo da quando gli ho fatto firmare con il sangue questo impegno non lo so adesso tra l'altro credo sia a cena con con la sua signora e e quindi niente molto probabilmente ci sarà un ritorno di un'atmosfera mettiamola così di qualche anno fa senza senza dire nient'altro a me piace tantissimo Overwatch quindi non so quanto si riesca a far vedere in live però potrebbe essere una bella idea anche Overwatch meno meno capelli meno cappelli e più barba giustamente giustamente no allora Cartoon Mix ve lo dico già subito probabilmente solo il sabato la serie di Head for Dead 2 ha quella con me Karim e il gatto no devo ricaricarla effettivamente e sarà ricaricata anche questa in questo canale questo sarà il canale in cui viene portato tutto quanto poi cos'altro dovevo dire non stavo scusi non lo so l'ha mandata a cagare premostato l'ha mandata a cagare gli ho detto che sono fidanzata ma sta continuando adesso non arrivo perché no no vabbè no e leggo ma io non 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 conoscendoti magari non l'ho accettata rimandamela comunque vuoi sapere come mi ha risposto quando ho detto che ero fidanzata con la frase più simpatica del mondo non sono geloso esatto porca miseria perché la gente naturalmente non sapendo chi è Debbie fa lo scebo con lei senza sapere che è un po' impegnata con una persona un po' incazzosa tizio con 56.000 iscritti puoi candidarti anche tu alla conquista di San Marino magari riusciamo a fare qualcosa io punto a Liechtenstein a dire il vero magari Liechtenstein ne ha di meno mi chiedeva venuto il doppio Liechtenstein allora vediamo un po' quanti abitanti ha Liechtenstein perfetto 37.000 no volevo dire un altro che cazzo ne so Malta non lo so Ovo Maltina eh ma è proprio il giorno di San Valentino non sono molto intelligenti poi io con la regia ho festeggiato festeggiamo anche dopo è vero che un giorno come l'altro però è un giorno in cui in cui essere comunque in allegria diciamola così mettiamola così make palazzo great again vabbè poi 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 parliamo di un altro argomento parliamo di un qualcosa che va diciamo a a intanto mi blocco mentre leggo voi ai 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 intanto vi sto leggendo Arkham Ah Arkham chi lo sa mi raccomando quando poi è andata a milano fazzate naturalmente da mollino dorino da aspettare è aspettava francesco si è il mio nome francesco napolitano il ginocchio col capello in mano mi ho fatto un anno fumetto con pierpaolo vero albertina e mi è piaciuto tantissimo l'ho fatto anch'io in accademia l'unico anno in cui sono andato all'accademia albertina con il corso di fumetto con pierpaolo vero solo che non credo abbia un ottimo ricordo di me perché ero sempre in ritardo con le scadenze poi alla fine mi sono ritirato e quindi allora attualmente io la marvel non la sto leggendo granché questa è l'unica parentesi che vi posso dire sono più verso la dc ultimamente comunque dicevo un argomento che va a diciamo a collimare con l'idea di far andare di pari passo il canale con splash page è il ritorno di ce la sogniamo ce la cantiamo da soli del notizio qualunque torna il notizio qualunque anche qui devo capire quale giorno della settimana probabilmente il venerdì perché potremmo fare un diciamo un riassunto di tutto di tutto quello che è successo in una settimana tu lo sai che poi sabato e domenico usciranno le notizie vero si si lo so vabbè si cazzo nel senso questo funzo non è che pizza carbonara ora che ho la sua attenzione sarete preferita non sui supereroi e direi breaking bad lost e quindi boh torna il notizio avrà una struttura un pochettino diversa perché non mi piace ripetere quindi probabilmente la cioè non mi piace non so se farei di nuovo la cosa dei titoli con la voce fuori campo non lo so forse lo farei anche lì un pelino più un pochettino più compresso allora ecco la super chat ho scoperto che la potevo attivare anche io non so praticamente da quello che ho capito per fare un messaggio che rimanga fisso in alto bisognerebbe pagare se lo volete fare fatelo io non lo incoraggio era soltanto per vedere come funziona salutami notte salutami notte va bene così tamburino e rulli e trombino le squilla giustamente rullo di canguri chissà che fine ha fatto rullo di canguri è un botto che non lo sento ebbene sì torna il notizio vediamo un attimo di capire come gestirlo ci va bene anche super casereccio mentre magni bella funzione del cazzo ma infatti mi sa che non la la vedete adesso per vedere che esiste ma non credo la si farà mai la signora regia tornerà mai sì sì è che io e lui ci siamo trovati da questo punto di vista esatto shoppo 500 euro e trovo super chat 5 ore di seguito oddio che cosa vi vogliamo i video con iotobi complimenti per tutto tizio e chi lo sa forse sì forse no forse boh chi lo sa forse sì forse sì oppure forse sì non lo so eh chi lo chi può dirlo tu tu puoi dirlo no allora poi altre cose altre cose come fa ciccio gamer scritto benissimo gamer come vi siete conosciuti giocando alle for dead hai un video preferito tra quelli pubblicati e quello che secondo te fatto meglio è sicuramente spiderman la storia direi direi che sono quelle di cui sono più orgoglioso nello specifico il terzo e il quarto sono quelli che a cui sono legato di più perché appunto anche con l'aiuto di debbi abbiamo abbiamo creato un qualcosa di un pochettino più ritmato e quindi direi che il terzo e il quarto capitolo di spiderman la storia sono attualmente i miei video preferiti poi mi piace tantissimo anche quello che avevo fatto con blankets ragazzi per qualche info sulla marvel edc visitate il mio canale youtube e pagina facebook e grazie e grazie a te direi che è stata un'ottima idea quella di spammarsi nella live di qualcuno poi neanche dici quindi cioè a fa concorrenza non è molto non è molto ah ecco phil ha fatto la 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 cosa da un euro ma non lo vedo phil però io come lo vedo 2 euro no vabbè ma non lo fate no mi sembra mi prende adesso lo tolgo dopo se si può walking dead lo sto seguendo in lingua originale e quindi sono a pari con le uscite vediamo allora cos'altro stavo dicendo non mi ricordo più ma poi cosa ha scritto phil non appare boh vabbè cosa ne pensi di big band theory divertente spiderman coming non ne parliamo adesso dai ragazzi stiamo stiamo on topic allora lo iotizio io non c'ho più tanta voglia di farlo lo iotizio nel senso che è bello perché lo ricordate bene e riproporlo uguale così com'era non avrebbe senso no adesso come adesso non è una di quelle cose che mi sentirei di fare cioè per farla perché mi viene richiesta e beh così non non ha senso con un euro non si può mettere il messaggio a ok allora chiedo scusa a chi così a chi l'ha fatto non lo fate non lo fate mi sono avvicinato a blankets dopo il tuo video posso dirti che che quell'opera mi hai usato in un momento davvero difficile io ti ringrazio mi colpisce molto questa cosa quindi grazie di cuore un gameplay su lego marvel avenger io l'ho provato non è male a me i giochi lego posso dirlo non mi ispirano non mi ispirano mi auguri la buonanotte ma andate a dormire alle 22.52 a me che ci saranno anche dei giovincelli mi rendo anche conto no phil non funziona come le live non c'è non c'è il bot che fa l'uptime è giustamente la chitarra dice bene poi il bot dove l'avete mai visto l'avete visto sicuramente su twitch no bene l'idea è di fare non so se a cadenza quotidiana o un giorno sì o uno no pippo franco del re del mondo ciao tizio leggio 93 grazie mille tra l'altro ha fatto io prima di iniziare la live ho visto uno dei video di quelli che pippo franco fa su facebook ed era un video del cazzo naturalmente però la cosa bella qual'era che non riuscivo a dare letta le parole perché c'aveva la luce proprio da un lato solo da un lato e lui avendo un naso importante praticamente tutto l'occhio era come se avesse avesse la benda da pirata e non riuscivo a concentrarmi perché mi dava fastidio l'ombra del naso gigante sull'occhio e carca troia 2 euro per i cittadini sviati per abbandonare questo nuovissimo rilancio del canale grazie la vita è arte giustamente e quindi sarei tentato anche di fare non so se tutti i giorni o un giorno sì o un giorno no delle live su twitch che possono essere sia di giochi sia di come dicevo qualche qualche tempo fa di chiacchieremente inchiostro non disegno più che altro mi mi voglio diciamo mettere giù con l'inchiostrazione delle delle tavole quindi ho trovato su internet varie come si dice varie tavole belle a matita e io mi metterò a inchiostrarle digitalmente mi fate compagnia se vi va pk ammetto che non ho più seguito dopo il primo ciclo su topolino e tizzo quando sta per finire lo spazio per i fumetti come si fa buona domanda buona domanda le perché su twitch e non qui perché su twitch vorrei rimanere più in settore gaming e qua allora essendoci già qua i canali essendoci qua anche i video di gaming mi piacerebbe cercare di tenere almeno le live per quello che riguarda i gaming a parte ma non saranno solo lì le live perché l'idea film sta provando comandi che credo di ci siano però va bene e tenete conto che non non andrà tutto a e collegio adesso mi è arrivata la richiesta che personaggi usi di overwatch principalmente lucio poi va bene gli ileri in generale e ogni tanto mi butto fare dps ma giusto così per cosa stavo dicendo non mi ricordo più ecco diciamo che durante la settimana ci sarebbero le live di gaming su twitch mentre su youtube e direi che si può fare ogni domenica una live serale come la stiamo facendo adesso da un'ora dalle 22 alle 23 piuttosto che più prima o più tardi chi lo sa mancano quattro minuti alla fine di questa live però me ne prendo quattro minuti giusto per visto che banni il tizio vabbè non funziona funziona così non so come dirtelo e vabbè cosa stavo dicendo vedi che mi impappino sempre quindi ricapitoliamo live sul canale di domenica live su twitch in settimana non so ancora che cadenza il venerdì tendenzialmente il notizio questo venerdì invece spiderman la storia 5 video di gaming saranno caricati su questo canale e poi ci saranno i video classici che eravate abituati a vedere vi faccio vedere in anteprima quello che vedrete da venerdì anche qua una cosa che vedrete da venerdì allora dove caspita l'ho messa del chi devo solo ok uno due eccolo qua ehi la fermo lì a questa sarà l'identità grafica del canale a partire da venerdì una diciamo una grafica e sarà anche il banner che vedrete al posto di quello che adesso ha macchie di enable com non funziona autodistruzione non so se questo film è un bot o meno ma io lo adoro è mezzo uomo mezzo bot di twitch comunque questa diciamo sarà l'identità grafica quindi vedrete ci sono dei codici colore così come ho fatto in splash page anche i video avranno un codice colore e un'icona di riconoscimento quindi questo col punto esclamativo potrebbero essere le first look quindi quando vi dico quando esce un trailer e vi do le mie impressioni a caldo rosso fumetto c'è anche il balloon verde saranno appunto quelli di gaming l'azzurro con la pellicola va da sé cine fumetti serie a fumetti cioè tipo arrow flash cioè fumetti a serie avete capito via comunque tutto quello che riguarda l'ambito dei cine comics è affini quindi recensioni e cose del genere news sarà appunto il notizio col codice colore arancione col codice colore viola le live che saranno sia quelle di queste su youtube che quelle di twitch perché magari quelle di twitch potrei anche ricaricarle qui non lo so adesso quello il discorso delle live è ancora un attimo da sistemare e poi codice colore nero con la ragnatela spider-man la storia punto esclavativo far capire fil non funzionate capi giustamente nero si è sfasciata la webcam perfetto effettivamente dà quell'idea di incrinato dai gaming il verde trasferto twist non funziona la gloriosa morte del conto e mancini è verde gaming verde gaming esattamente e questo sarà diciamo il programma diciamo che è una Gianluca De Solda ma non usate questa funzione grazie grazie mille veramente è figo punto esclavativo qualunque report film for trolling thank you vabbè è arrivato il super messaggio cioè non so se c'è un messaggio come si dice allegato però ho visto che è apparso il tuo nome grande con quei due euro grazie mille fil è un hacker russo che vuole sabutare la nuova riapertura del canale però l'ha fatto facendo una donazione non so quanto abbia chiara la cosa fil parlaci di te autobun porca puttana vabbè peni naturalmente atti criminosi FBI non ci troverete mai paraponzi ponzi pai anche aggiungerei tra l'altro avete visto quello che l'hanno fatto a PewDiePie porca vasca vabbè lui è un pirla però poi devo trovare entro brevissimo tempo non tanto per venerdì quanto per i video a venire il sostituto di questo catafalco che probabilmente qualcuno di voi ha già visto nei video e lo ricorda è il mio microfono blughietti che mi ha fatto onorato servizio per tre anni di canale cioè praticamente dal 2014 in poi questo è stato il microfono ha smesso di funzionare cioè è un problema che che ha dal punto di vista software perché in pratica lo inserisci con la presa USB al computer e il computer non lo riconosce come periferica audio lo riconosce come periferica USB sconosciuta e io ho provato a chiamare anche la casa madre mi hanno detto non si può non c'è nulla da fare a meno che non lo sostituisci però non sei più neanche in garanzia e allora a breve vedrete un nuovo un nuovo microfono tizio comunque voglio dirle che lei con i gameplay funziona molto bene mi fa molto piacere che abbia deciso di tornare a farne le formalità sono dovute al dopo studio per l'esame di domani non si preoccupi non si preoccupi ho sempre creduto che quel mic fosse una riproduzione fallica uno cento del bat segnale vabbè non ci sono i comandi ma tra l'altro non lo posso neanche ah no aspetta sono lì l'annunciatore del notizio dovrà essere Phil naturalmente col punto esclavativo che fa ciao grande scusa se ti chiedo ma chi cazzo sei continua così big eh non lo so dimmelo tu io non so venuto da te tu sei venuto da me eh vabbè eh vabbè Phil apri un canale che mi iscrivo tanto sto pelato non è costante l'elmo di magneto non lo posso tirar fuori adesso perché è abbastanza ingombrante e pesante però c'è c'è fuori inquadratura enable blue yeti o semi drive mica abbastanza così ho chiesto a chiunque gli ho detto piuttosto datemi un firmware eh sì close channel ti piacerebbe eh datemi un firmware da reinstallare tutto quello che volete basta che vi funzioni niente da fare che dite la tengo all'iscrizione al canale o no come come vuoi 23 06 dai adesso manca pochissimo e chiudo gli ultimi due minuti due minuti e niente che posso dire spero di poter essere all'altezza delle aspettative degli annunci che ho fatto qualcuno mi ha detto giustamente non è importante che tu ci dia delle scadenze e ormai ti conosciamo e io ringrazio però se riesco magari a farvi sapere quando escono le cose male non sarei scopri quanto è nuova il 18 e il 19 tizio ti prego invita Jay Jameson quando urla Parker Parker a tutti sono Phil il bot la reincarnazione digital del tutto cosmico allora scrivi anche qualcosa oltre al punto esclamativo e che cacchio scusate c'era il suono doppio farai una collaborazione con Greg Land eh no no perché purtroppo eh lui copia soltanto le foto non dal vivo eh collaborazione con i termos ci saranno non ne abbiamo parlato ma assolutamente sì perché eh io normalmente girerò le cose che mi diverte giocare e le cose che mi divertono giocare le faccio con i termosifoni quasi sempre tranne quando sono i giochi iper pro che fanno loro traduzione Siege che purtroppo non sono buono il fatto è che più di solito ti dai delle scadenze meno le rispetti ha ragione Armanda però ci provo farai una collaborazione con Greta Menchi no mi spiace darvi questa notizia c'era proprio gli ultimi contatti però alla fine il manager suo ha detto no mi ha detto no mi dispiace vogliamo farle fare cose che centrino col suo canale non c'entri niente tu con lei e quindi ho preso atto e boh Bendy si ha mai lavorato su Amazing non ricordo no non ha mai lavorato su Amazing 2308 quindi questa è diciamo una live di presentazione di quello che arriverà già da venerdì non arriverà tutto subito ci vorrà un attimo di tempo però questo è il manifesto programmatico da qui in avanti ma come avevi detto di sì ma chi io Bendy su Amazing no Mr. Elf quanto ci metti ad asciugarti i capelli Spider-Man più forte sì ci metto uno Spider-Man più forte e mezzo circa farai il giudice a Festival Bar no però mi hanno chiamato per fare il giudice ad un concorso di cosplayer in borghese quindi io devo valutare come stanno senza costume cioè vestiti normali no senza costume ma Logan che vi dico di Logan porca vacca è uscito un trailer e poi farò un trailer reaction che mi dici di Alex Ross velocemente? che mi dici di Alex Ross velocemente? non fa ridere no vero? porca troia oh vabbè è l'altro quello che fa stand up eh eh sì con quella barba sembra più il manifesto programmatico il comunismo uomo stagno ti voglio bene grazie mille grazie mille col ma col cosa? presentaci la vasca qualunque no almeno mi hai cagato ah vabbè film make it so great again giustamente voglio dire qualcosa qualcosa ecco ma io sono il proprietario della live quindi posso dirle queste cose simpatiche tu noi adesso ti 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 caccio dalla vita proprio no vabbè dai ti lascio tante cari cose ciao cari ciao cari ciao cari prima faccio una cosa no non la faccio perché sennò mi bloccano il video lezioni di Nirvana